Quelle che vedete sono le supercelle formatisi nelle ultime ore in Slovenia. Si sono abbattuti temporali intensi con chicchi di grandine di medie e grandi dimensioni. Il fronte perturbato, giunto da ovest e entrato venerdì sul nord Italia, ha proseguito verso est-nordest che dal Friuli si è portato a punti Slovenia. Da come potete vedere dalle immagini, non si è risparmiato nemmeno qui. Le foto delle imponenti supercelle. E vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella notifiche.